Buon senso in caso di ostinazione pugno duro perché non è possibile interrompere un pubblico servizio come l'assistenza medico-ospedaliera. Replica senza mezze misure del direttore sanitario dell'ospedale di Nocera Inferiore, Maurizio D'Ambrosio, dopo la paventata sospensione dello straordinario minacciata da 18 medici che prestano servizio al pronto soccorso dell'Umberto I. Dopo una prima minaccia di incrociare le braccia a partire dal 1 luglio, ieri i camici bianchi e hanno aggiustato il tiro dando tempo fino al 1 agosto. Alla base della levata di Scudi una questione economica. L'azienda di Vianizza non paga da settembre scorso lo straordinario retribuito in regime di Alpi, ovvero attività libera professionale intramuraria. E tra qualche giorno poi si aggiungeranno altri oneri in concomitanza con l'attivazione dell'osservazione breve e intensiva. Noi siamo un pubblico servizio quindi non possono proprio minacciare niente. Viceversa ci deve sempre aiutare il buonsenso nel senso che noi facciamo un lavoro che comunque dobbiamo garantire quello che in effetti a cui siamo chiamati. C'è stato un problema per quanto riguarda delle aspettanze riferite agli ultimi mesi del 2013. Stiamo facendo delle verifiche di tipo contabile amministrativo. Appena veniamo a capo di questa situazione sicuramente faremo in modo da far pagare. Per il 2014 io con la direttore amministrativa avevamo disposto il pagamento. Solamente c'è stato proprio un problema procedurale da parte del servizio personale aziendale. Le posso dire che comunque c'è stata anche una lettera di scuse inviata anche a me con le organizzazioni sindacali rispetto a questo disguido che si è verificato e quindi con le prossime aspettanze di luglio verranno pagate il primo trimestre e sicuramente anche aprile. Da non dimenticare che il presidio ospedaliero di Nocera Pagani è sotto osservazione proprio per il troppo straordinario. Il manager Antonio Squillante ha inviato l'ispettore Giampiero Spinelli ma D'Ambrosio chiarisce anche rispetto a questo punto. Dobbiamo rientrare in quelli che sono i fondi assegnati dal comitato budget. Purtroppo questa struttura ospedaliera ma non è una giustifica è proprio una constatazione della realtà. Avendo un carico di lavoro eccessivo molte volte i turni di servizio che in effetti vengono stabiliti preventivamente nel corso del mese vengono modificati perché abbiamo come devo dire dobbiamo affrontare dei ricoveri in sovrannumero ma quindi c'è bisogno di un raddoppio del turno di servizio e questo sicuramente comporta un aumento dello straordinario.